Inopinata sconfitta dell'Alma Juventus Fano che perde al cospetto di una ottima Iesina che con un 2-0 che non ammette repliche manda alla seconda sconfitta consecutiva i Granata di mister Alessandrini. Un unico episodio incriminato della contesa, il gol annullato a Borrelli al minuto 17 del corso del secondo tempo. Vediamo insieme la testa di Gucci, vedete il colpo di testa di Nicolo Gucci che si trova naturalmente al di qua, Borrelli nettamente dietro a Fatica, quindi è inspiegabile la chiamata della signorina Gabriella Angelotti. Vediamo il cross di Civilla, la testa di Gucci con Borrelli che è nettamente dietro la linea dell'area di porta, quindi gol regolarissimo, Borrelli che è poi pronto al tapin vincente. Inspiegabile la chiamata di Gabriella Angelotti di Termo, l'assistente che operava sotto la tribuna. Vedete il colpo di testa di Gucci, non c'è fallo tra l'altro nemmeno di Nicolo Gucci e il tocco di Borrelli. Chiaro il gol buono, l'Alma poteva riaprire, l'Alma non ha giocato sicuramente un'ottima prestazione, tutt'altro, ma questo episodio poteva comunque riaprire la contesa perché si era al minuto 17 nel corso del secondo tempo e un 2-1 avrebbe cambiato la partita. Ora diamo un'occhiata alle pagelle che ai noi non sono sicuramente molto molto belle in quanto l'Alma, come detto anche e lo vedete anche questa sera nella telecronaca, non ha disputato un'ottima gara il 2-0, non ammette discussioni in favore della Iesina. Delusione soprattutto per i difensori, delusione anche per mister Alessandrini che ha effettuato due cambi, quelli di Chiacchiarelli e di Buongiorno, in vero troppo tardivi, si era al 38esimo del secondo tempo, a gara ormai compromessa, discutibile, molto discutibile la messa in campo dal primo minuto di Gregorini che ha tutto un altro passo rispetto a Trudeau, il franco caraibico lo ha letteralmente sul passato, inspiegabile anche l'ingresso in campo di Verruschi a scapito di Mei che nelle ultime gare aveva giocato sicuramente meglio di tanti altri. Anche qui involuzione incredibile per il capitano Nodari che è incappato veramente in un'altra prestazione negativa. Andiamo con le pagelle, Ginestra 5,5, Gregorini 4,5, Bartolini 5, Lunardini 5, Nodari 4, Verruschi 4,5, Sivilla 5, Favo 5,5, Gucci 5, Borrelli 5, Falsa Perla 5, sono entrati nel secondo tempo Palazzi 5, Chiacchiarelli e Buongiorno ingiudicabili, quindi senza votazione perché entrati in campo a pochi minuti dalla fine. Alessandrini 4, un voto per il direttore di gara che comunque va a sommare anche quello dell'assistente Gabriella Angelozzi e dell'assistente 2 Antonio Alessi, nel complesso sufficiente, quindi 6 per Davide Meocci di Siena. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.